Bentornati amici, un saluto da Luigi Ducchi. Oggi torneremo ad occuparci di Wet'n Store. Lo faremo con un dispositivo che mi ha inviato, Wet'n Store, store di AliExpress che nel corso del tempo mi ha messo a disposizione molti dispositivi da testare sul nostro blog. Oggi mi ha messo a disposizione un dispositivo che alcuni di voi già conosceranno, altri l'avranno visto ma non sapranno di cosa si tratta. Questo device dell'azienda ETIAD, marchiato Sonoff quindi, è forse l'unico dispositivo di questa azienda che non si integra nell'applicazione ufficiale eWeLink. Direte voi, e allora a cosa serve? Questo device non è altro che un gateway universale Zigbee. Che cosa vuol dire per gateway universale Zigbee? Permette di accoppiare adesso device con il protocollo Zigbee di tantissime aziende e farle collaborare fra di loro. Questo grazie ovviamente a un hub domestico quale Home Assistant, ovviamente anche gli altri hub domestici, ma noi trattiamo per la precisione sempre ed esclusivamente Home Assistant, quindi potrete utilizzare questa dongle USB proprio sul noto hub domestico. In realtà collegandolo tramite USB alla Raspberry o a qualsiasi altro dispositivo sulla quale avrete installato Home Assistant, verrà in automatico riconosciuto e mediante un component ufficiale, in realtà ce ne sono più di uno di component ufficiale, ma noi oggi vedremo Zigbee2MQTT, che si occupa di trasformare la comunicazione Zigbee in messaggi MQTT e di conseguenza poi andare a lavorare con il noto hub domestico Home Assistant. Questo permetterà di andare ad integrare tutti i dispositivi facenti parte del protocollo Zigbee, di varie aziende, quindi mi viene in mente le famosissime Philips UE, oppure i dispositivi che si trovano anche da Ikea o anche Xiaomi, Aquara, insomma tutti quei dispositivi. I brand che gestisce sono veramente tantissimi, poi dopo magari lo vedremo, ma è una lista veramente infinita anche di dispositivi che sinceramente non ho mai visto. Diciamo che il protocollo Zigbee è un protocollo standard, quindi è vero che ognuno ha il suo gateway proprietario, o con all'interno un software che gestisce i propri dispositivi, ma in realtà il protocollo è unico e può essere utilizzato appunto con questi gateway universali e di conseguenza integrabili poi in hub domestici come Home Assistant. La configurazione è veramente molto semplice, basterà attaccarlo e poi tramite il component ufficiale farà tutto lui. Ma prima di spostarci su Home Assistant andiamo a vedere il contenuto della confezione, poi andiamo a vedere i device che sono disponibili con questo dispositivo e successivamente andremo a configurare Home Assistant per interagire proprio con questa USB Sonoff. Questo anche perché così andremo avanti anche con le guide riguardanti i principianti, diciamo, che si affacciano nel mondo di Home Assistant, che ultimamente ho un po' tralasciato perché, ahimè, le cose da recensire erano veramente tantissime, ma il tempo a disposizione è veramente poco e quindi oggi riprenderemo questa saga che è molto molto seguita. Eccoci qua con il dongle USB 3.0 ZigBee di Sonoff. Questa è la confezione molto minimale, all'interno troveremo praticamente solo la chiavetta USB ad eccezione di un piccolo manuale di istruzione e della sua antenna. Manuale di istruzione che in realtà ci spiega semplicemente come andare a collegarla, ma è molto semplice, dovrete collegare l'antenna nell'apposita vite che è qua, poi l'antenna a sua volta potrà ruotare, è direzionabile, e la USB la potrete inserire direttamente in un Raspberry, vediamolo qua, magari lo attaccherete direttamente ad una delle porte USB che sono presenti a bordo, oppure potrete andare a collegarlo ad un computer che avrete a disposizione con all'interno Home Assistant. Bene, io mi sposterei direttamente sul Home Assistant di test e andrei a vedere subito come funziona. Allora il primo step da fare prima di iniziare qualsiasi tipo di configurazione su Home Assistant è quello di andare ad aggiornare il firmware della chiavetta Sonoff e per fare questo ci sarà un'operazione non complicata, ma comunque che richiede alcuni passaggi. Per prima cosa dovrete smontare l'antenna, quindi andare a rimuovere l'antenna e queste due viti che sono presenti, vi consiglio un cacciavite calamitato perché sono veramente piccole ed è veramente molto facile perdere. Lo dico perché l'ho già perse prima di girare questo video, ne ho girati 100 e le vitine mi erano cadute in terra, una tragedia veramente epica. Ecco qua, rimuoviamo la prima vite, andiamo a rimuovere la seconda. Lo sportellino viene via da sé e la chiavetta Sonoff si sposta. Come noterete, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere nel dettaglio, ci sono due pulsanti, uno chiamato boot ed è proprio quello che ci servirà. Vi consiglio di munirvi di una prolunga USB nel caso dobbiate fare questo aggiornamento firmware perché è molto più comodo eventualmente che andarla ad attaccare dietro, anche perché dovrete tenere premuto il pulsante boot e successivamente con il pulsante premuto inserire la USB nell'adattatore che a sua volta è collegato al computer e dopo 10 secondi che la chiave USB è collegata potrete rilasciare il pulsante e a quel punto la chiavetta Sonoff sarà in modalità aggiornamento e quindi potrete andare a caricare il nuovo firmware. Bene, per fare questo, prima di tutto, dobbiamo spostarci sul computer e dobbiamo scaricare i driver della chiavetta USB Sonoff per piattaforma Windows e successivamente un software di Texas Instruments che ci permetterà appunto di andare ad aggiornare il firmware della chiavetta stessa. Quindi andiamo sul mio PC. Allora, veniamo a noi. Per aggiornare il firmware della USB Sonoff ci sono tre passaggi fondamentali da fare. Il primo sarà quello sicuramente di andare a scaricare il firmware più aggiornato. Lo troverete su G-Tab, alla pagina ufficiale, non vi preoccupate perché poi ve lo linkerò nella guida relativa a questo video e scorrendo in giù nel menu troviamo la nostra chiavetta USB che è l'ultima, Sonoff ZigBee 3.0 USB Dongle e questo è il firmware, quindi ricordate bene questa versione qua CC135.2 P2, CC265.2 P Launchpad il numero che seguirà poi sarà identificativo del numero di serie del firmware. Per scaricarlo non dovrete far altro che andare su Guto File Guto File, anzi no, scusate, dovete andare su qua ZStack Firmware, Code e premere su Download Zip. Attendete che sia scaricato, a me lo scarica nella cartella Download qui possiamo chiudere e andiamo nella cartella Download e dovrete decomprimere questo file vedete ZStack Firmware Master io ho già aperto la cartella all'interno troverete il firmware sia per coordinator che per router voi ovviamente dovrete accentrare la vostra rete ZigBee sulla chiavetta Sonoff quindi sarà il coordinator e i router, anche se generalmente potrebbe trarre un inganno sono gli extender in realtà, quelli che servono ad amplificare il segnale quindi andiamo su coordinator selezionate ZStack la seconda voce e successivamente la cartella BIN dovrete andare a trovare io l'ho già decompattato ma comunque è questo qua CC135.2.p2 CC265.2.p Launchpad mi raccomando la versione Launchpad non quest'altra versione quindi decomprimete questo file e vi troverete appunto il file con estensione .ex e per ora lasciate tutto così e ci servirà dopo ecco, torniamo nella cartella, alla radice della cartella Download poi successivamente che cosa dovrete fare? dovrete scaricare e installare i driver per la chiavetta USB anche in questo caso andrete sulla pagina Sonoff ufficiale anche in questo caso vi metterò il link scorrendo in fondo alla pagina scorso troppo dovrete cliccare su questo PDF che vi si aprirà online e dovrete aprire questo indirizzo qua quindi cliccateci sopra si aprirà una pagina di un NAS probabilmente messo in rete da Sonoff che vi permetterà di scaricare il file quindi cliccate su Scarica attendete che abbia terminato il download una volta effettuato il download potete tornare nella cartella appunto Download che la troverete qui anche in questo caso io ho già provveduto a decomprimere il driver che è questo qui CP210X Windows Driver aprite qua a questo punto dovrete selezionare il driver in funzione del vostro sistema operativo Windows se è a 64 bit o 32 bit che in gergo si scrive per 86 ma comunque sta ad indicare 32 bit nel mio caso ho installato la versione da 64 bit non ve lo faccio vedere perché io l'ho già installato comunque cliccando facendo un doppio clic sulla versione andrete ad installare il driver ed infine avrete bisogno di scaricare il software di flash della chiavetta USB e lo farete direttamente dalla pagina di Texas Instruments dovrete assolutamente creare un account che ovviamente è totalmente gratuito scorrete poi nella pagina anche questo link ovviamente ve lo metterò in descrizione e andare a scaricare questo qua Flash Programmer 2 quindi cliccate su Download Option eccolo qua Windows Installer for Smart Flash Programmer 2 Flash Programmer 2 qui dovrete mettere il vostro account la vostra password e dovrete compilare un piccolo format per indicare che non avete intenzioni di utilizzare questo programma per programmi militari vai a sapere cosa vogliono comunque compilate i vostri dati e successivamente cliccate Yes questi americani sono sempre così timorosi che qualcuno possa utilizzare un software per chissà quale motivo Submit e successivamente Download se tutto è andato a buon fine fra un po' vedrete che inizierà a scaricare il file infatti eccolo qua eccolo qua e anche questo lo troverete nella cartella Download torniamo alla radice eccolo qui e quindi di conseguenza dovrete decomprimerlo io l'ho già fatto ed eccolo qua e dovrete andarlo ad installare una volta fatta questa operazione dovrete collegare la chiavetta Sonoff eccoci qua il programma aperto se tutto è andato a buon fine avrete già installato i driver della USB e avrete smontato la vostra chiavetta come vi ho fatto vedere prima noterete i due pulsanti Reset e Boot a noi interessa Boot quindi io mi sono avvalso di una prolunga USB femmina in modo da essere più agevolato per fare questo video con la chiavetta nuda senza l'antenna non è necessaria comunque se la volete tenere la potete tranquillamente tenere tenete premuto il pulsante Boot e inserite la USB incredibile al primo colpo quasi impossibile attendete sempre tenendo premuto il pulsante Boot qualche istante una decina di secondi all'incirca e poi potete rilasciarlo nel frattempo avrete notato che nel software è comparsa la nostra chiavetta che però non viene riconosciuta quindi cliccate su sconosciuto select target device dovete selezionare la prima voce cc2652p successivamente fate un bel refresh ecco qua refresh ecco ho sbagliato dovete selezionare c265 e poi fate un bel refresh ok poi andate a selezionare da browse il vostro firmware scaricato io lo ho nella cartella download ricorderete che ho scaricato solo quello specifico per la nostra chiavetta che nel nostro caso è la cc2652p tenete presente che il numero finale di questo file ex potrebbe cambiare a seconda della versione del firmware attualmente questa è l'ultima disponibile magari se fate questa guida fra un po' di tempo questo numero potrebbe essere progressivamente superiore rispetto a questo qua quindi poi andate a spuntare la casella erase program e verifica e successivamente l'ultimo step da fare è andare a premere il pulsante play attendete che la procedura vada a buon termine ci vorrà qualche istante ecco qua ok perfetto la scritta in verde successo vuol dire che la vostra chiavetta usb è stata perfettamente flashata con il nuovo firmware quindi potrete staccarla e andare a rimontarla ricorderete la mia installazione di home assistant che utilizzo per il blog e come noterete qua su notifiche una volta che avete inserito la usb e avrete riavviato home assistant vi comparirà un numero e se andate ad aprire il menu a tendina vi dirà che c'è un nuovo dispositivo scoperto andando a vedere troverete la vostra Sonoff Zigbee USB dongle ma noi non integreremo la Sonoff USB mediante questa configurazione bensì andremo ad aggiungere Zigbee to MQTT per farlo avremo bisogno di aggiungere scusate di andare in configurazione componenti aggiuntivi e dovete cliccare raccolta di componenti aggiuntivi successivamente dovrete aggiungere una repository così proprio come abbiamo fatto ad esempio per Home Assistant Google Drive Backup l'abbiamo visto già nelle guide passate ma ve lo faccio rivedere per prima cosa andate su questo sito qua che è il sito ufficiale di G-Tab di Zigbee to MQTT e dovrete copiare questa repository qua quindi andrete a cliccare e copiare successivamente tornerete qua dovrete cliccare i tre puntolini in alto a destra repository e andare ad aggiungere la repository appena copiata quindi cliccate su aggiungi ed ecco qua chiudendo troverete Zigbee to MQTT quindi cliccateci sopra e andate ad installarla una volta installata non avviatela ma spuntate innanzitutto Watchdog aggiornamento automatico lo lascerei vuoto tanto nel caso che ci sia un aggiornamento ve lo notificherà e a quel punto lo farete manualmente e poi mettete mostra nella barra laterale in modo che come vedete vi comparirà questo menu Zigbee to MQTT successivamente dovrete andare alla configurazione allora prima di andare a vedere la configurazione voglio farvi vedere un passaggio abbastanza importante voglio aprire e chiudere una parentesi la mia installazione di Home Assistant anche se vi fiesce vedere l'installazione su un Raspberry Pi poi è stata trasferita in un secondo momento per mia praticità su una macchina virtuale su Proxmox lì dove è anche la mia installazione principale dove gestisco il mio appartamento a tal proposito in futuro faremo vedere una guida proprio per l'installazione di Home Assistant anche all'interno di una macchina virtuale sul sistema operativo Proxmox che è Linux based ecco la cosa che cambierà fondamentalmente è il nome della porta USB dove avrete collegato la vostra chiavetta USB Zigbee della Sonoff e per vedere questo dovrete andare su configurazione supervisor sistema e poi hardware e dovrete andare a notare la porta chiamata IT at the Sonoff Zigbee 3.0 che nel mio caso come vedete qua devname slash dev slash tty usb0 usb maiuscolo tra l'altro ecco nel caso che invece utilizzerete un Raspberry Pi probabilmente qui ci sarà tty acm0 con acm maiuscolo ma questo cambia poco ricordatevi solo di andare a controllare probabilmente anche voi su Raspberry avrete acm0 quindi chiudiamo qua torniamo alla configurazione componenti aggiuntivi zigbee2mqtt configurazione allora nelle versioni più vecchie esiste un file unico alla quale dover copiare praticamente tutto quanto adesso hanno diviso la configurazione negli ultimi aggiornamenti quindi non avrete più bisogno di scrivere mqtt due punti e serial due punti ma semplicemente andrete a collocare la voce di mqtt sotto l'apposito menu a tendina e anche la voce seriale proprio nel menu a tendina e cosa scriviamo qua in mqtt? sicuramente se avrete seguito le nostre guide dovrete andare a scrivere un po' di cosette e io per comodità le copio e le incollo da un file che ho allora base topic voi potete scrivere tranquillamente zigbee2mqtt io ahimè ho già una rete zigbee all'interno della mia casa e quindi devo andare a creare un topic diverso rispetto a quello che genera alla mia altra chiavetta zigbee che ho sempre sulla stessa macchina di conseguenza l'ho chiamato zigbee2mqtt ripeto se avete solo un'installazione ad esempio su un raspberry pi e non avete altre installazioni in casa di altro home assistant con altre dongle usb zigbee tranquillamente potete scrivere zigbee2mqtt questa sarà la radice del topic mqtt per identificare il messaggio che si scambiano i dispositivi con la chiavetta sonoff poi server mqtt due punti slash slash home assistant se avrete seguito le nostre guide e avrete installato mosquito broker direttamente su home assistant non avrete bisogno di configurare altro se non questa voce qua successivamente sotto dovrete mettere user e password della vostra configurazione mqtt ricordate le abbiamo trovati nella configurazione del componente mqtt l'altra volta nella precedente guida l'avevamo configurata se non vi ricordate il username e password andate a leggere nella configurazione del dell'mqtt appunto dove troverete questi parametri e qui viene la voce invece che abbiamo visto prima e io vado direttamente a copiarla ecco qua e la vado ad incollare ecco sbagliato è port ecco qui allora se avete un raspberry pi probabilmente questa voce dovrà essere sostituita con acm al posto di usb tutto maiuscolo comunque per sicurezza vi ho fatto controllare prima la porta andate a controllare su cosa è collegato il vostro device se qui riportate appunto quella porta successivamente potete andare a salvare tornando in informazioni andate ad avviare il componente chiamo quindi su avvia ci vorrà un po' specialmente se la prima volta che avviate il dispositivo la cpu andrà alle stelle per qualche istante poi tornerà con valore prossimo allo zero quindi non è molto energivolo questo componente solo in fase di avvio lo è per controllare l'andamento si può andare qua sul registro ma come vedete è già partito tutto quanto zigbee2mqttnew è il topic del nostro coordinator zigbee e infatti se andiamo su informazioni noterete che ormai la cpu è prossima allo zero quindi sta impiegando veramente pochissime risorse adesso che è avviato il tutto basterà semplicemente andare qua su zigbee2mqtt ovviamente qui non c'è nessun dispositivo ancora perché non ne abbiamo accoppiati proprio qua vedete due dispositivi che andremo ad accingerci ad accoppiare per far partire il pairing alla sonoff basterà premere permetti su questo pulsante qua nel caso che abbiate già inserito altri coordinator avrete la possibilità scusate altri router avrete la possibilità di permettere il pairing solamente su quel router di conseguenza non farete partire l'accoppiamento su tutti i router e i coordinator compreso ma solo su un determinato dispositivo a cosa serve questo serve che magari avete intenzione di installare un dispositivo end user e per dispositivi end user intendo tutti i device zigbee a batteria in quanto essi non riescono a propagare la rete zigbee ma sono solo dei client mentre tutti i dispositivi o per lo meno la maggior parte dei dispositivi che vengono alimentati a 230 volt o comunque alimentati da tensione invece che a batteria ecco questi possono fare da router quindi da repeater del segnale ad esempio se andate a mettere uno di questi due dispositivi in fondo ad un appartamento molto grande e il coordinator l'avete dalla parte opposta della casa probabilmente avrete una scarsa qualità del segnale e di conseguenza avrete necessità di andare ad includere anche un router per ampliare proprio la vostra rete zigbee quindi per accoppiare il tutto premete permetti join ecco una volta che avrete abilitato il il join andiamo a mettere in pairing mode i due dispositivi che abbiamo visto qua sopra ecco adesso che la sonoff è in pairing mode andiamo ad inserire questo dispositivo per inserire questo device che è una quara un sensore di vibrazione andrà semplicemente tenuto premuto il pulsante per 5 secondi ovviamente la modalità di accoppiamento cambia dal dispositivo al dispositivo e come vedete questo device è stato incluso ora ci vorrà un po' di tempo che lo riconoscerà vediamo vediamo un po' ed eccolo qui riconosciuto come notate dall'immagine è anche possibile proprio vedere il dispositivo che è stato accoppiato in questo caso ma ci saranno ulteriori novità che vedremo fra un poco intanto andiamo ad accoppiare anche l'altro dispositivo come vedete c'è un timer che va a scalare quando arriverà a zero si disabiliterà completamente se volete rinnovare la modalità di accoppiamento disabilitate e riabilitate il tutto partirà un timer da 4 minuti e spicci e anche in questo caso dovete tenere premuto il pulsante per 5 secondi fino a che non inizierà a lampeggiare ed ecco che ha riconosciuto anche l'altro dispositivo ovviamente si possono accoppiare una serie infinita dopo vi farò vedere il sito internet ma è una cosa inimmaginabile quanti dispositivi possono essere accoppiati a ZigBee 2MQTT a tal proposito voglio aprire una parentesi abbiamo visto all'inizio di questa guida che la chiave USB veniva riconosciuta in automatico senza l'integrazione di diciamo ZigBee 2MQTT con ZHA potrebbe essere stata integrata la nostra chiavetta USB ma ZigBee 2MQTT lo trovo un component molto superiore intanto ha una vasta gamma di device molti di più di quanto abbia ZHA ma soprattutto c'è la possibilità di inserire all'interno dello stesso impianto due router scusate due coordinator e non solo dei router invece ZHA supporta un solo coordinator qui avrete la possibilità di mettere più di un coordinator due per l'esattezza meglio se andate a dare un topic diverso diciamo al secondo coordinator ma comunque diciamo che per una casa medio grande è più che sufficiente un coordinator specialmente con un coordinator come la chiavetta Sonoff perché diciamo assimila su di sé tantissimi dispositivi più di 200 oltretutto se poi abbiamo anche dei repeater aumentiamo notevolmente il campo dei dispositivi disponibili benissimo qui abbiamo visto questi dispositivi adesso andiamo a vedere un altro po' di particolari molto interessanti ecco qua innanzitutto qua abbiamo come primo valore il valore LQI che è il valore di comunicazione con il coordinator e quindi è molto alto arriva ad un massimo di 255 in questo momento il coordinator è al piano di sotto quindi diciamo che 105 per un piano di differenza è molto molto alto questi due device erano due device che avevo buttato dentro un cassetto con la batteria vai a sapere da quanto tempo in realtà infatti l'alimentazione è prossima allo 0% comunque dà anche la percentuale di scaricamento della batteria o eventualmente dà il simbolo della presa di corrente se è un dispositivo alimentato a corrente da qua potrete rinominare il device spuntando questa voce potrete anche andare a aggiornare direttamente l'entità di home assistant dopo lo vedremo anzi qui lo facciamo subito e mettiamo vibrazione questo probabilmente sarà un binary sensor non li uso mai questi questi sensori di vibrazione ne ho diversi ma non li ho mai installati a dire la verità rinomina dispositivo e come vedete il nome cambia in vibrazione e quest'altro lo chiamiamo con molta fantasia pulsante Zigbee aggiorna anche l'entità così va a rinominare anche da strumenti per sviluppatore infatti se qui andiamo a binary sensor eccolo qua binary sensor vibrazione vibration questo perché ha vari vari valori che può farci vedere ad esempio select vibrazione sensitivity e qua vediamo un po' si può andare a selezionare media alta o bassa la sensibilità direttamente da questo e poi cos'altro abbiamo sempre sullo stesso sensore penso che non ci sia altro ah sì beh abbiamo il 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 no non abbiamo altro penso vibrazione action ah ok sì e poi i sensori di vibrazione x y e z dato che questo sensore di vibrazione si diciamo muove sui tre assi e quindi se io vado a muoverlo vedete che iniziano ad esserci dei valori si popola con dei valori che possono poi eventualmente essere utilizzati per delle automazioni ovviamente c'è anche il sensore che va a vedere la batteria mi è sembrato di vedere anche il binary sensor che altro non è che il pulsante che abbiamo fatto e vediamo un po' mi sfugge adesso eccolo qua pulsante zigbee action adesso è sconosciuto perché non è mai stato fatto niente ma se io ad esempio tengo premuto è veramente molto veloce come vedete release hold cambia in maniera molto istantanea dopo vedremo come andare a comporre un'automazione anzi lo vedremo magari in un secondo momento ecco vi dicevo torniamo nuovamente su zigbee 2mqtt perché voglio farvi vedere una cosina molto carina che è la mappa quindi carica mappa ci vorrà un po' di tempo anzi diciamo che ogni tanto questo sensore impazzisce con questa nuova versione poi si ferma ve lo garantisco e vabbè comunque volevo farvelo vedere fermo accidente a lui guarda qua non si ferma sparateli sparate a quel sensore sparateli fermo 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 sensore non ti muovere è impazzito è impazzito amici è impazzito vediamo un po' se si è calmato eccolo qua si è calmato ok questo è il coordinator e questi sono i pulsanti il pulsante zigbee e il sensore di vibrazione 95 e 109 sono le LQI che abbiamo visto di comunicazione fra l'uno e l'altro ovviamente più è grande il vostro impianto zigbee e più questa mappa viene popolata di dispositivi quindi se ce ne fossero degli altri che fanno da router sarebbero identificati con un simbolo blu con il relativo nome tra cui avremmo anche delle linee tratteggiate che sono le linee di comunicazione fra il router e magari un altro router e di conseguenza il coordinator perché i device che sono fra router e coordinator comunicano fra di loro proprio come abbiamo detto prima e qui abbiamo quindi questa piccola mappa composta attualmente da questi due elementi come abbiamo visto una volta che sono integrati in zigbee e in QTT diventano delle entità a tutti gli effetti e quindi possiamo andare a creare un'automazione ad esempio alla pressione del pulsante e faremo accendere una luce adesso la andiamo a vedere nel frattempo vediamo un po' cosa è successo qua ah ok ci sono due aggiornamenti da fare sinceramente questo Home Assistant è un po' che non lo utilizzavo di conseguenza sicuramente c'erano dei componenti aggiuntivi da andare ad aggiornare benissimo adesso ci spostiamo sul banco di test vi faccio vedere un attimino quello che è la funzione dei vari dispositivi ricorderete avevamo messo un po' di dispositivi sul questo Home Assistant attualmente è tutto scollegato quindi vedete tutto disconnesso ora riattaccherò un po' di presi di corrente e ripristinerò un po' il tutto in modo che andremo a creare un'automazione con il pulsante Zigbee appena appena connesso allora prima di farvi vedere un po' di automazione con il pulsante che abbiamo fatto abbiamo configurato prima quindi con il protocollo Zigbee e la nostra chiavetina Sonoff guardate la lista infinita di dispositivi che è compatibile con Zigbee 2NQTT questi sono tutti marchi ad esempio che ne so Ikea possiamo cliccare Ikea tutti questi dispositivi che vende Ikea possono essere accoppiati alla Zigbee 2NQTT di conseguenza alla chiavetta Sonoff guardate veramente tutta la collezione oppure ad esempio che ne so Xiaomi ecco qua anche in questo caso tutti i dispositivi Zigbee di Xiaomi possono essere integrati tutti quanti vediamo un po' Sonoff ecco qua tutti quanti i Sonoff o perlomeno quasi tutti quelli che sono Zigbee e poi c'è veramente una quantità industriale di dispositivi che possono essere accoppiati a questo sistema senza utilizzare un gateway proprietario e WeeLink ad esempio che cosa abbiamo di WeeLink ha anche device che sono Zigbee che lavorerebbero con WeeLink possiamo ad accoppiarli ma veramente è infinita la lista sinceramente l'80% di questi dispositivi neanche li conosco talmente lunga la lista è praticamente impossibile pensate la connessione che ci può essere con questo ecosistema integrato in un sistema come Home Assistant praticamente si riesce a domotizzare con qualsiasi cosa quello che vogliamo e quindi è una situazione veramente molto molto interessante non essendo legati ad un hub proprietario bene adesso ci spostiamo nuovamente sull'Home Assistant di test nel frattempo ho riapparecchiato tutto l'abbecedario e quindi abbiamo tutto a disposizione per andare avanti con l'automazione ecco qua Home Assistant intanto ho rimesso in piedi il sistema che avevamo creato nelle precedenti puntate il Sonoff 2 Power Meter collegato alla sua placchettina con i due pulsanti uno accende un canale uno accende l'altro si spengono entrambi da qua e poi abbiamo questo Sonoff Power 3 che ricorderete aveva firma il Tasmota il pulsante wireless Shelly che con una pressione accende un canale premendolo nuovamente si va a spegnere doppia pressione si va scusate doppia pressione si va a scendere quest'altro doppia pressione nuovamente si spegne pressione spegniamo questa e tenendo premuto si va a attivare il Sonoff che non c'è collegato nulla ma comunque sentite il rumore che scatta il relay al suo interno quindi non ci resta che andare ad inserire questo ulteriore pulsante e per questo li faremo fare le stesse funzioni che fa quello là in realtà questo pulsante può fare più azioni ha pressione doppia pressione pressione prolungata legge anche il rilascio del pulsante in più anche lo shake la cosa importante di questo pulsante è che essendo a batteria come questo del resto il protocollo ZigBee consuma molto molto meno la durata della batteria di questo dispositivo è praticamente infinita dura una vita dura mentre questo qua lo devo tenere attaccato anche perché se lo stacco si attiva solo ogni volta che andiamo a premere il pulsante quindi ha dei tempi veramente lunghissimi nella pressione questo è un vantaggio incredibile per quanto riguarda lo ZigBee a batteria rispetto alla controparte wifi benissimo quindi siamo su Home Assistant come vedete ovviamente si accende il tutto in tempo reale anche dall'interfaccia grafica la prima cosa che ci servirà sarà quella di andare a creare un'automazione anzi ben tre automazioni riguardanti questo pulsante ma per fare questo ci servirà prima il topic e quindi andiamo sulla nostra ZigBee 2 MQTT configuration andiamo su vediamo un po' vediamo un po' log adesso è vuoto ovviamente ma se andiamo a premere una volta il pulsante come notate questo è il topic che abbiamo creato prima questa è la radice ZigBee 2 MQTT New che l'abbiamo stabilita in fase di accoppiamento della chiavetta Sonoff successivamente pulsante ZigBee che è il nome che abbiamo dato al dispositivo quindi questo qui ce lo copieremo e ci servirà poi per l'automazione come avete visto ho premuto una volta sola il dispositivo infatti come azione è venuto single se avessi premuto due volte sarebbe venuto double tenendo premuto l'azione sarebbe stata hold e successivamente al rilascio ci sarebbe stato release e poi questo particolare pulsante ha anche la funzione di shake ecco qua come notate se lo scuoti c'è anche questa funzione che eventualmente può essere inserita in un'automazione oggi andremo a vedere come il pulsante shell pressione dopo pressione pressione prolungata quindi cosa facciamo andiamo nel file editor al file automation punto yaml eventualmente avremmo potuto creare anche un package l'abbiamo visto l'altra volta allora io tendenzialmente cerco sempre di mettere tutto nei package però si può fare tranquillamente anche nelle automazioni quindi facciamo un bel segno divisorio per andare ad indicare questo non è obbligatorio ma altamente consigliato e mi vado a copiare queste tre automazioni che prima della guida ho già scritto poi ve le spiegherò in modo che andiamo a velocizzare un pochino i tempi dato che questa guida è anche molto molto lunga ecco qua allora come sempre abbiamo un alias che è altro non è che scusate qui ho perso uno spazio allora alias è il nome dell'automazione possiamo mettere quello che vogliamo in cell state per avviare l'automazione all'area di home assistant il trigger sarà appunto il topic zigbee2mqtt new pulsante zigbee però dovremo creare una condizione una condizione che sarà una condizione template perché ci servirà di estrapolare questo valore in questo caso il valutemplate sarà single quindi dal topic dovremo estrarre il valore template single questa condizione se è attuata alla scattare del trigger farà un'azione che sarà appunto quella di andare ad accendere o spegnere se è acceso lo switch shelley plus 2 power meter perché ho messo qui in automation punto yamla perché qui c'è anche l'automazione del pulsante e così vedete che praticamente è la stessa cosa ovviamente con sintassi diversa però singola pressione del pulsante l'abbiamo visto l'altra volta va ad accendere lo switch shelley plus 2 power meter stessa cosa nella seconda automazione che è pressoché identica a parte il valutemplate in questo caso il valore sarà double quindi doppia pressione e mi andrà ad accendere il secondo canale che per comodità avevamo chiamato switch punto shelley plus 2 pm secondo mica tanto comodo però diciamo che rende l'idea ed infine abbiamo l'ultima automazione che altro non è che la pressione è prolungata infatti il valutemplate sarà old e in questo caso andrà a accendere il sonofpov r3 quindi switch sonofpov r3 benissimo non ci rimane che salvare e andare su configurazione impostazioni e ricaricherei solo le automazioni in modo che non c'è modo di andare a riavviare completamente home assistant quindi poi andiamo su panoramica e a questo punto il nostro pulsante dovrebbe essere pronto ed ecco che i frutti del nostro lavoro finalmente possono essere ricompensati possiamo andare a vedere il lavoro svolto quindi con una pressione si accende la lampada con la successiva pressione si spegne e guardate i tempi di reazione sono molto molto veloci doppia pressione si va a accendere l'altra doppia pressione si va a spegnere e se tengo premuto si accende questa e se lo premo ancora si spegne volendo avrei potuto fare anche un'ulteriore azione con lo shake ma evitiamo per questa volta rispetto al pulsante wifi adesso considerate che è collegato alla batteria ma se non lo fosse sarebbe veramente molto lento e questo considerate che non è collegato al router ma è tramite Zigbee che poi a sua volta comunica come assistant in realtà fa un giro molto più lungo ma è molto molto più veloce oltretutto la batteria dei dispositivi Zigbee dura molto molto di più rispetto a quella wifi bene 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 amici anche per oggi siamo giunti al termine vi ricordo di seguirci sui nostri canali all'indirizzo www.vincenzocaputo.com troverete il nostro blog e poi ricordatevi sempre di spuntare la campanella su youtube in modo da essere notificati ogni volta che pubblichiamo un video nuovo non mi rimane che salutarvi alla prossima guida ciao ciao